Che tristezza ragazzi, io non ce la faccio più a stare qua dentro, venite con me che vi mostro qualcosa. No, qui non lo puoi fare. 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 Ragazzi, se non abbiamo uno spazio... Grazie a noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!